E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stefano, questo oggi chiama Rabla E oggi torniamo con un altro tre mappe in uno Che non so se saranno tre, se saranno due Che ogni volta cambiamo In questo periodo è speso un due mappe in uno Però vediamo, partiamo con un tre mappe in uno E torniamo con gli escape Esatto Dato che da un sacco di tempo che non ne facciamo uno Dato che, come sempre, Fat Paps li fa fighissimi Abbiamo scelto il suo e dobbiamo scappare dalla lavanderia oggi Perché abbiamo paura di finire dentro una lavatrice Eh, mi sembra giusto come pure Mi sembra molto molto Oppure di finire in un portabiti come questo signore Viene a vederlo Capita tutti i giorni, no? Viene a vederlo Tu ti svegli e finisci come portabiti, giusto? Eh, assolutamente sì E ti abbiattisci pure, guarda che poverino È super appiattito Sembra una figurina ormai È diventato un tutt'uno con l'abito Quindi sì, mi sembra un buon motivo per scappare Però mi piacerebbe averti a mo' di figurina in camera Ti appendo dalla parte Ce la vedete Fereniki così spiaccicata? Dove dobbiamo andare secondo te? Sinceramente non l'ho capito Io vedo qua dentro No? Ok Ok, qui? Sì, trovato Dove? Qua Ah, ok, ok Non capivo, non ti vedevo più nella stanza Ok, ci sono Andiamocene Allora, attenta scendendo Oh, guarda, c'è un altro addirittura Ma hanno fatto una strage Ma poverino, ma che lavanderia diabolica è mai questa? Cioè, poverini È proprio terribile Credo che siamo dentro una lavatrice Perché vedi che ci sono i vari detersivi? Dobbiamo scendere di sotto? Suppongo di sì Ma è uno scivolo? Aia Aia, non proprio Ah, e finiamo nei panni sporchi Oddio, oddio Ci sono, ci sono È un po' strano Praticamente credo che ci sia nascosto un bottone per attivare una scala Come lo vediamo? È impossibile Giocando con l'inquadratura, se ho capito bene Eccolo, trovato Attivato Vieni, 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 vieni Ah, ecco, ok Io continuo a non averlo visto Lo so, tranquilla, tranquilla Ci pensa Steph Ad aiutarti a scappare da questo postaccio Bellina questa idea, comunque Sì, molto particolare Non l'avamo mai vista Ah, ma qua facciamo anche la pubblicità di detersivi adesso Ariel, mai sentita? Mi sa che in Italia non si vende, vero? No, penso che non esista Non lo so Secondo me esiste, però fuori Ah, può essere Sicuramente ho un'idea di che marche di detersivi ci siano Di sicuro non ci volevo finire dentro Esatto E invece è appena successo Dannazione Dobbiamo iniziare a giocare con i bottoni Non so cosa c'entrano i bottoni con la lavanderia Perché gli hanno staccati dai vestiti, capito? Sì, ma vedi che c'è proprio qualcuno che sta cucendo qua È bellino, eh, però Non è che abbia molto senso Però è carino Quanto meno è carino Guarda Adesso attenta a quel filo, eh Perché un po' ci entri dentro Stai attenta Ah, ok Non è una bella cosa Non è una bella cosa Adesso, vabbè, questo facile è facile per fortuna E si va avanti Bellina sta zona, vero? Molto, molto Tutta appenzata Tutta carina Sì, 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 sì Cos'è questo? My Little Pony? Sì, di My Little Pony, ma non li conosco Quindi non ti so dire come si chiama È come sempre Lui mette uno o due livelli difficilissimi Quindi stai attenta a quei salti Sono davvero terribili Sì, ci sono, ci sono Più o meno Perfetto, perfetto, perfetto Di sotto Ok Di sotto, andiamo di sotto Ma qua stiamo cadendo da una parte all'altra Tutto a posto Tutto a posto Sì, sì, infatti ci stiamo buttando tutto il tempo Mi stava facendo i vestiti, vedi? Ma sta bene Mi sembra un po' stanca Sì, ha gli occhi un po', un po', diciamo, forti Guarda le pantoffole Oh mio Dio Oh mio Dio Sono fantastiche Mi regali un paio di pantoffole con gli orsetti Sai che io avevo, quando ero piccolina Mentre muoio Avevo le pantoffole di Pikachu Che erano due Pikachu giganti E tu ci infilavi il piede dentro Erano bellissime Facevano un caldo incredibile Vabbè, io ho tutto il pigiama slash costume di Pikachu Però non è le pantoffole Eh, me le devi comprare Ma io le voglio con gli orsetti Bando alle ciance Come lo facciamo? Eh, parecchio stretto Eh, ho visto Ci stai riuscendo prima tu di me C'è qualcosa che non va Perché Eh, infatti Meno male Mi hai portato sfiga, vedi? È quello che volevo Perché era l'orsetto che mi motivava Non volevo rimanere da solo qua Ok Bravo, Steph Uff, meno male No, è impossibile Io me ne vado Finito così Finito? Sì, basta Va bene, ciao Sono stancata di scappare Preferisco fare una vita qui dentro Allora Scommetti che riesco a motivarti? Mhm C'è un guest qua Quindi vuol dire che il guest è riuscito a farlo Se il guest è riuscito a farlo All'ultimo No, per l'ultimo Perché mi hai distratto Mi hai messo i denti in testa Che non doveva avere Troppi guest nominato Stavo già pensando a come ucciderlo Proprio ho pensato Ma non ho armi Non lo posso far fuori Quindi stavo pensando a modi per farlo cadere di sotto E quindi giustamente mi sono distratto Guarda, puoi stare tranquilla Da quando siamo arrivati È già morto 15 volte da solo Eccomi Diciamo I guest non mi possono superare Superiamolo, superiamolo, superiamolo Ma dai, è impossibile questo E infatti lui ci sta morendo da 45 minuti E c'ha ragione, poverino Chissà quanto ci ha messo a fare quello che abbiamo appena finito Sarei stato curioso di vederlo Magari due giorni Ed è qui Ed è qui, capito? Senza dormire Al telefono, senza mangiare, senza dormire Perché vuole finire No, allora Passa prima tu che mi fai cadere Ecco che iniziano le vicende Frenichi versus guest Vai, vai, vai Non mi farà mai finire il livello Io te lo dico Lo so Rimarrete qua per sempre insieme Oh mio Dio Legati da un legame guestoso È la cosa peggiore che può capitare nella vita Sì E quei pantaloni neri o quello che sono Non fanno saltare bene Quindi Eh l'ho notato Perché non sono saltate No, sì L'hai ucciso Non mi ha fatto cadere È saltato sulla mia testa Mi ha fatto cadere e muore Cioè almeno falla No, aspetta Aspetta che fa No, sta tornando pure l'altro No Cioè ma sta laggando Lui salta e muore Senza neanche toccare terra L'hai visto Vai, muoviti Prima che arrivi anche l'altro Ti prego Che se no poi me li devo subire Anche io entrambi Non ce la faccio Non la posso fare Devi farcela No, non posso Devi impegnarti a farcela Per tutti i consolini Ok, hai seminato il guest Andiamo, andiamo, andiamo Di qua, di qua, di qua Capiamo dal guest La cosa Dovrebbero fare Escape Escape the guest Attento Ah, non me l'hai detto No Bella sta parte Io mi son buttata E anche io Lo creiamo Escape the guest Secondo me facciamo un successione Vero Perché secondo me Eh ma io la vorrei fare troppo una mappa A priori Secondo me con la lag Fanno impazzire tutti Allora io aspetto Cercando di prendere un po' Vieni, vieni Basta che stai così a saltare Capito Dopo che passa Vai Vado, vado Ok E adesso Vado No Ho provato Il tutto di fila È una figata questo È strano Non è arrivato il guest Scappa Oh mio dio Come ha fatto Scappa Ha corrotto la mappa Scappa Vado Ha avuto talmente tanta lag Che non gli ha preso le morti No Perché con te Non ce la faccio più Io sono scappata dal guest Non ce la faccio più Dimmi che non è arrivato No, ok, ok Ok, sono al sicuro Io continuo da solo Per sicurezza Perché mi hai fatto già incontrare il guest una volta E non voglio che riaccada Vai, ti guardo dall'alto Hai il potere dei consolini Ok Vai Brava E adesso Adesso devi salire tramite quei tipi Ok E poi vai sul checkpoint Stai attenta Non mi li fa prendere Cosa dobbiamo fare Dice Ah, ti fa correre veloce Aspetta, guardami E continua a correre veloce No È diventato uno di quei giochi che fai tu Sì No, non lo voglio fare No, vabbè Epico No, vabbè Epico No, non lo voglio fare Basta No, ti hanno fregato però Non te lo potevi aspettare Te ne ho messo la cosa che più odi nella vita Così all'improvviso No, devo Non ti prende il checkpoint E devi ripartire dalla serpentina No Ti devo dire una cosa Dimmi Quando arrivi al checkpoint C'è un'altra parte Dove si corre No, non lo voglio più fare Me ne vado via Ma perché ti hanno messo questa roba qua Cioè io sono felicissimo Non sono mai stato così felice Però sono triste per te Perché so che non ti piace Dove sono finita? Mi sono persa Ho appena sbattuto la faccia Brava Alleluia Bravissima Che tristezza Ok, te ne mancano ancora un po' E sei al checkpoint Forza Mi raccomando Oh yes Oh, finalmente No, un'altra Sì, te l'ho detto Con la gru Vai Ok Bravo, Steph Bravo, bravo E adesso qua non devo saltare Esatto Prima ci sono cascato Ok, salto 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 E me lo potevi dire Che lì non poi non si poteva saltare Mi dovevi dire il punto esatto Cioè stavo riuscendo a fare tutto E mi schianto nel muro Abbiamo schipato l'ultimo livello Perché appunto era infattibile Bene, volevo Ormai sapevo che era l'ultimo Volevo finire E dimmi te Che noia però Un peccato Allora, ascoltami Un peccato Prendi questo Questo Rainbow Path Ok Vieni Sono tristissima però L'ultimo livello così Boh, è stata una tristezza Allora, prendi questo badge Ok, giusto Perché così Abbiamo il riconoscimento Di averlo finito Ok Non so se me l'ha preso E adesso Andiamo a caccia di guest Sai cosa faccio? Dimmi Questa che chiudo qua E loro non possono più saltare Vedi? In effetti Io chiudo tutto qui Loro arrivano E non possono fare nulla Qualche giorno fa Stavo provando un po' di mappe Di Roblox Per vedere cosa fare Nel tre mappe in uno E mi sono imbattuto In questa mappa Perché era una Delle più giocate Ok Quindi ci sono entrato L'ho provata E ho detto Sì Molto molto bella Praticamente Allora Io ci tengo a dire una cosa Siamo già da una decina di minuti Dentro questa mappa Ok Perché Steph si è dimenticato Di registrare Diamogli la colpa Non dire certe cose Eh no, certo Che vanno dette Perché altrimenti Non si spiega Come io posso essere Già così potente Anche se i consolini Lo sanno insomma Ok E quindi stavo Un pochettino Provando sta mappa E sinceramente In dieci minuti Ancora non ho capito il senso Allora Cioè continuo a non capire Te lo spiego In basso a sinistra Tu clicchi Ogni volta che clicchi Sì quello l'ho capito Fai 25 Devi arrivare Ad avere abbastanza soldi Per aprire le casse E quando apri le casse Trovi degli oggetti Con i quali ti vesti La somma del valore Di quegli oggetti Indica il tuo numero Ok Basta Ok finito Quindi tu entri In una mappa E clicchi per tutto il tempo Non c'è altro da fare Non c'è una cosa da costruire Allora Gente da combattere Nulla Io adesso vado da questa Qualcosa di rarissimo Cosa mi ha dato Sinistra o destra Ho capito Guarda adesso Ho la collana di Roblox E tu non ce l'hai E tu non ce l'hai La collana di Roblox Perché è un tesoro in testa E perché io Ho questa maschera Terribile E perché sono le uniche cose Che abbiamo E queste cuffie Queste cuffie che ho trovato Guarda ti faccio vedere Quanto valgono Fammi il trade Che non so come si fa Allora aspetta Eeeh Vai Vai Accetto Ok Guardale 70.000 Secondo me le vuoi per questo No È un'ottima offerta No grazie Allora ti offro quello Più questo No è bruttissimo Anche il tesoro Dai no No Rifiuta sempre Io volevo fare gli scambietti E beh ascolta qui In una mappa così divertente Scusa in questa mappa Il valore sulla testa è tutto Capito Eh lo so Quindi c'è Devi per forza avere un valore altro Altrimenti sei lo sfigato di turno Quindi Sai come io mi devo già fermare Non vorrei dire Ma Steph è un po' più alto Cara Guardami Aspetta Equip Guarda che figo che sono Bellino però Sto oggetto Il monocolo Vero Molto bellino Molto carino Quindi ci mi da tocametto Ok vai Dai qualcosa di figo Su Qualcosa di figo Però ci bella suspense E i consolini non lo vedono Vabbè poi lo vedranno Ok Qualcosa di figo Beh è rosso quindi è raro Uuu No Questo sì Guardatela È arrivata a 308.000 Ti ho già raggiunto Mi ha già raggiunto Perché sei un fallito Allora sei un fallito nei click Allora Ne keep Ok Mi levo anche questo E mi metto solo questo Perché secondo me poi viene coperto dagli altri Guardami Che cos'è Un cappello minacciosissimo Bellino Ma è un toro diavolo Esatto È fantastico È cattivissima Sai con cosa sta bene quel capello Con una bella pistola No grazie Le cuffie non ci servono più No me le metto Guarda mi servono Ci stanno benissimo Ci stanno malissimo Oh fantastica Dammi quelle cuffie Guardate il mio cappello che vale un sacco di click Dai Guardate Dai Fatemi battere ferinichi Il ponte Daaaah Però sono belli Per pochissimo 37.000 valgono Allora aspetta Eh vabbè mica male Aspetta aspetta Backpack Mi tolgo questo E mi equipaggio questo Guardami Io me ne apro anche una da 2005 Vai Ok Giusto per aprire di nuovo cose Veloce Beh questa figa che ho trovato Infatti era solo da Da 5.000 Non era di quel valore Ah ok Vediamo Cerca di prendere le spalline Che sono la cosa più bella della volta Esatto Sono strabelle Io troppo ne apro Ok lui ha accettato Allora ti offro Vediamo un pochettino Questo monocolo qua Che è molto bello Ok Ti ha chiuso in faccia Sì Ne sto prendendo una da 5.000 Dai 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 Ma che me l'ha educato però Eh vabbè dai Gli ha offerto una schifezza Ma non avevo finito Stavo mettendo anche altro Eh ma ha visto no E me l'ha chiuso in faccia Che ha dato proprio solo una possibilità Uh Anche se fa schifo è bello Ho trovato un'arma Anche se fa schifo è bello Mi piace È di valore fa schifo Però è bella Allora da 2005 Qualcosa di bello per Steph Forza Se la testa da robot è figa Sì ma ha già un sacco di cose in testa Capito? Eh te ne metti altre Si trovano però solo oggetti per la testa Perché per il corpo non si trova così nulla Siamo bruttissimi Ehi bella Dimmi Come stai? Eh infatti sei bruttissima Come stai? Comunque dai ci prego Aspetta Ultima scatola Poi non ti piace sta mappa No l'ultimissima Da 5.000 l'ultimissima L'ho visto passare Ok Lo voglio anch'io che cosa ha? No no vai 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 Apri quello che hai No è bruttissima Ok È una cuffiettina celeste terribile Eh Che vale 400 È successa una cosa Cosa? Sei passata da prima a terza Chi è entrato nella mappa? Uno con 6 milioni Mi spacco la faccia E uno con 12 milioni Allora Dov'è che lo devo uccidere? Questo Dicevo Basta è finito Qui ce ne andiamo Ci fermiamo così Finita la mappa Ciao Per questo video Due mappe in uno di nuovo Vedi il tre mappe in uno Non lo facciamo più Ci blocchiamo troppo È perché dai Questa era talmente bella Che era possibile Questa era talmente bella Che dobbiamo restarci molto Certo Certo Sì Quindi due volte Ci siamo rimasti È arrivato uno da 16 milioni Va bene Chiudiamo qui Ciao Ciao Ferenichi rimane prima E voi siete tutti dei falliti Ciao Bene che se non si scusisse Già Sentici un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao